e salve a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono raffo e io francesco e oggi faremo una panna challenge in che cosa consiste allora ragazzi siccome noi siamo migliori amici abbiamo fatto dieci domande personali a cui dovremo rispondere chi sbaglia eccola qui la risposta oplà un bello schiaffone pieno di panna quindi penso che possiamo iniziare chi inizia per primo? l'ho svantaggiato l'ho svantaggiato ok iniziamo allora mettiamo subito in difficoltà il mio migliora dico aspetta prepariamoci già con questa si si preparala dai la pina di panna guarda pure tu io dico non c'ho buca perché sennò è brutta allora vado in piccolo di me si scusa allora la domanda il nome della mia terza ultima è ragazza mamma che me le devo pure contare bastardo allora terza ultima allora la posso mangiare questa la prima Federica allora la terza ultima ragazza si chiamava Pallaggei eh piana eh sì ahhhh vedi che è la penultima è bastardo no ma vedi che tu c'è stato con tre ragazzi no cazzo va bene dai pronti aia tre due uno tre dai appena basta due dai ok la prima ci siamo mamma mamma ma adesso mi chiamava Maia ma no 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 Maia ok aspetta che non riesco a più ok io bastardo non ti ho messo in difficoltà e vabbè era facile la mia prima domanda il mio colore preferito aspetta il blu bastardo eh no non vale non ti devi spostare non vale non vale perché è l'azzurro i capelli è l'azzurro è la mia è blu è blu non è blu è azzurro Italia uno ok vai la cacca di qui giù non ne metterla assieme perché se noi combiniamo il casino bastardo tutta il divano e dove volevo dai muoviti mentre sindone sei a me non sei però basta compiegare dai e subito buona la panna il colore delle mie mutande che c'è cochini di 345 mutande non me ne fai più un cazzo grigio è sbagliata è gialla bastardo a quanti anni ho iniziato a giocare a pallone allora a sei anni ha iniziato a giocare a campo a 11 finisce da giocare a quattro anni esatto è caduta pure la poca poca perché c'è cosa la sbaglio però hai fatto tutte domande difficili tu è facile è facile è facile vediamo quanti peli il mio colore preferito non me lo ricordo rosso e blu come la notte ammocamò la canzone chiamo di più allora gemelli diversi non mi ricordo come cazzo si chiama la canzone cinque quattro tre due corri uno è sbagliato perché tu corri e corri vai ho fatto piano è buona la palla comunque nel naso è bello dai dai andiamo avanti andiamo avanti vedete che cosa dobbiamo chiamare la serva per pulire perché abbiamo combinato un mace dopo combini pubblici di tutto ok è bella faccia che ho mangiato la maschera o scuola con la canna ma subito da 4 e raffaele grande pezzi no dai ora non devo mangiare in azito per francesco ma essi amosani esce dai dai il nome del mio ultimo contatto che c'è co dai facili da inizia con la z è sì giorno dai è uno dei più non voglio sapere proprio il nome no a che vuoi sapere come inizia? te l'ho detto io inizia con la z quindi un nome è con la z nooo non è così questa viene tagliata cioè no vabbè ma andiamo perché ho un orologio da nero a bianco non ti accettano suggerimenti però eh siccome i suggerimenti sono stati detti e nel caso di risposta esatta non varrà che può essere un cazzo ehm zakkira è bastardo zakkira ma che è? è normale ma vai zia ma che cazzo ma zakkira ma che cazzo ok quindi la quarta domanda giusto in che corso andava le medie? semplicemente la di perché c'è andava anche io davvero ma io te le faccio facili tu c'è un bastardo allora facciamo 2 a 0 sì da quanto siamo amici? eh da quando eravamo piccoli che andavamo all'asilo cioè almeno avevo 11 a 10 anni sicuro dai è esatta 2 a 1 non romperai i coglioni ehi la mia bibita preferita Red Bull ragazzi c'è la cosa è buono guarda Red Bull cazzo ci indurzi ragazzi un attimo aiuto c'è uno dei fazzoletti altri fazzoletti perché ho una maglia bianca nera non si capisce un cazzo guardate bellissimo sembra mi ha cagato un piccione sopra oh che bello anche sul petto ce l'ho oh yes mi chiamo anche qualcuno grazie mille per la redazione dai dai proseguiamo a chi tocca a te ma posso a te ma vai subito vabbè esci da uno stupido fra poco dai ma che numero stiamo non lo so che numero stiamo comunque fra poco è finita fra poco è finita allora è il mio piatto preferito oh fruit però mamma mia cazzo è facile ma che ti ha buco è facile ma che cazzo aspetta ma che ti torno a periodo live ma che cazzo ti dici che cazzo ti dici era la lasagna è la facile ovvio ma io mi sono emozionato con tutto sta parte ragazzi sembra che sto il mio calciatore preferito calciature calciature del piero ma è già il testo la via comunque ultima domanda perché oramai ha vinto comunque è buona no no me la fare difficile ma sei un porco lecchi tutto ma la ecco ora ultima domanda la mia sezione f allora ma io l'ho fatta tutte facili ma anche la fa questa era facile io ho fatto tutte facili ho fatto tutte facili allora in che sezione vado adesso scuolo ora mi ci vorrebbe la canzone dello scuolo come sottofondo da 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 aspetta spiegami prima quali sono le sezioni a b c d e f c a c l m e n o cuore sti uuuh a b c d eh fino a dove arrivano e b c boh ma l'ho fino a d che non è che fanno da tutti i sezioni dai dai che arriva dai che chiediamo in bellezza pure c'hai vinto dai 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 ne ha basta basta bastardo no ma io c'è un baglio ma me la da lì bastardo è la ok ragazzi comunque terminiamo il video così aspetta eh eh dai no no bastardo non lo facciamo non lo facciamo la mangiamo la mangiamo la mangiamo si non avrai ci fummo ok è squadri eh buona squadri ok ragazzi allora ci puliamo puliamoci perché ha vinto dalla redazione un altro fazzoletto cortesiamendo un pacco di fazzoletti eccoli che magicamente esco il fazzoletti concludiamo il video dai il digitore è francesco quindi non possiamo geniando abbiamo perso voglio chiamare perché ma non è un muoto allora ok ragazzi allora se volete un'altra challenge scrivetelo qui sotto nei commenti dove Raffaele però perde altra volta perde questi bastardi lui perde io vinco giusto capelli di merda ragazzi vabbè come sempre vi invito a lasciare il like commentare e condividere e noi vi sentiamo con Bella